Allora, primo anno al Forum Selling K, Fabio, com'è andata? Bello, bello, una bella esperienza, ci siamo divertiti, è un bel format, mi sono divertito perché stai all'aria aperta, insomma, un bel divertimento, la barca a vera è una bella cosa, Grega, questa è la prima volta, quindi si è trovato anche ieri con quelle belle condizioni di vento peso peso che hanno fatto un po'... Beh, sono divertenti perché è il momento in cui esce anche la competitività, esce il... esce... però non suggerisca, è il momento in cui, diciamo, ci vuole un pochino di coraggio, cioè, uno deve andare a seguire il vento, deve... Però riuscivamo a fidarci perché sia la Cristiana Monina che l'Alessandra erano... Ottime strutture... ...super tranquillizzanti, eh? Sì, 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 sì... Andava tutto bene, c'era qualcuno che stava per finire in mare, ma non è vero, è tutto tranquillo, tutto a posto... No, siamo stati bene, siamo stati... un bel gruppo, devo dire, ci siamo divertiti. Ti ho visto anche attento all'incontro di ieri sera, sulla riflessione sull'imprenditorialità e la leadership tra maschile e femminile. Sì, credo molto nella leadership femminile, come dicevo anche l'altra sera e credo molto nel fatto che l'uomo e la donna abbiano delle caratteristiche che congiuntamente portano a un buon risultato, quindi sicuramente era un buon tema ed era un ottimo tema da sviscerare. Ti vediamo il prossimo anno sicuramente al Forum SenniCup 2015. Sicuramente. Cosa vorresti vedere al prossimo anno in più che non c'è stato quest'anno? Eh... ma... più competizione sì, ma devo dire che c'è stato... gruppo, gruppo, come c'è stato quest'anno. Devo dire che non so darti un... Replichiamo ottimo e abbondante che va bene. Replichiamo ottimo e abbondante. Ad Maiora! Ad Maiora! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!